Siccome il lavoro è un diretto, ci hanno fatto perdere questo diretto, questa dignità perché abbiamo bisogno di questi soldi, ognuno di noi ha famiglia, impegni e sono 3-4 mesi, questa è una cosa vecchia che non si aggiusta. Speriamo che sia giusto una vota per sempre perché così non possiamo vivere, questa è tutta la situazione che noi vogliamo, un diritto per vivere, per sopravvivere perché non prendevamo neanche una paga come si dice, prendevamo già a parte una cosa che poteva andare, adesso ci hanno tolto proprio l'ossicido per campare, per vivere, non lo so come dobbiamo fare, che si danno da fare perché non è possibile andare avanti così.